L'esecuzione era fissata per le 5 del pomeriggio. Già la mattina giunsero i primi curiosi e si assicurarono i posti. Portarono sedie, panchette, cuscini per sedersi, cibo, vino e anche i propri figli. Verso mezzogiorno, quando la popolazione rurale affluì in massa da tutte le direzioni possibili, il Coeur era già talmente stipato che i nuovi arrivati dovettero accamparsi in alto, nei giardini e nei campi a terrazza al di là della piazza e sulla strada per Grenoble. I mercanti facevano già buoni affari, si mangiava, si beveva, c'era un ronzio e un'animazione come alla fiera annuale. Presto si radunarono circa 10.000 persone, più che per la festa della reginetta dei gelsomini e per la processione più importante, più di quante ce ne fossero mai state a Grasse. Affollavano anche i pendii più alti, erano salite sugli alberi, erano sedute sui muri e sui tetti, si accalcavano a 10, a 12 per finestra. Soltanto al centro del Coeur, protetta da un recinto, nella massa della folla, spiccava una zona libera per la tribuna e per il patibolo, che ad un tratto appariva molto piccolo, come un giocattolo o come la scena di un teatro di marionette. Ed era stata tenuta libera una via che dal luogo dell'esecuzione conduceva alla Porte du Coeur e Rue Druate. Poco dopo le tre, comparvero Monsieur Papon e i suoi aiutanti. Li accolse uno scroscio di applausi. Portarono sul patibolo la croce di Sant'Andrea, fatta di travi di legno, e la sistemarono all'altezza giusta per lavorare, appoggiandola su quattro pesanti cavalletti. Un garzone di falegname la inchiodò. Ogni manovra degli aiutanti del boi e del falegname era accolta dalla folla con applausi. Quando poi Papon girò attorno alla croce con la spranga di ferro, contò i passi e fece il gesto di tirare colpi ora da un lato, ora dall'altro, scoppiarono vera e propria grida di giubilo. Verso le quattro la tribuna cominciò a riempirsi. C'era molta gente elegante da ammirare, ricchi signori con lacchè e buone maniere, belle signore, grandi cappelli, abiti lucicanti. Tutta la nobiltà cittadina e campagnola era presente. I signori del consiglio comparvero in un tiro chiuso, guidato da due consoli. Ricchi si indossava abiti neri, calze nere, cappello nero. Dietro al consiglio marciava la magistratura, guidata dal presidente della corte. Da ultimo veniva il vescovo sulla portantina aperta, in veste viola splendente e mitra verde. Chi ancora era capocoperto in quel momento si tolse il berretto, il clima si fece solenne. Poi per circa dieci minuti non accadde nulla. I signori avrevano preso posto, il popolo attendeva immobile, nessuno più mangiava, tutti aspettavano. Papone e i suoi aiutanti erano come inchiodati alla piattaforma del patibolo. Grande e giallo, il sole era sospeso sull'esterel. Dalla conca di Grasse veniva una tiepida brezza e portava con sé il profumo dei fiori d'arancio. Faceva molto caldo e c'era un silenzio addirittura inverosimile. Infine, quando già sembrava che la tensione non potesse durare oltre, senza irrompere in un grido generale, in un tumulto, in una rivolta o in qualche altra manifestazione di massa, si udirono nel silenzio un calpestio di cavalli e uno stridore di ruote. Da Rudroat scendeva una carrozza chiusa a due cavalli, la carrozza del tenente di polizia. Attraversò la porta della città e apparve, ormai visibile a tutti, nel vicolo che portava al luogo dell'esecuzione. Il tenente di polizia aveva insistito per procedere in questo modo, perché altrimenti non avrebbe potuto garantire la sicurezza del delinquente. La procedura non era affatto usuale. La prigione era distante cinque minuti appena dal luogo dell'esecuzione, e se un condannato, per quarsi voglia ragione, non percorreva più a piedi questo breve tratto, un carretto scoperto tirato da un asino sarebbe stato più che sufficiente. Che uno arrivasse in carrozza per la propria esecuzione, con cocchiere, servi in livrea e seguito a cavallo, finora non si era mai visto. Ciò nonostante, la folla non manifestò inquietudine o malumore, tutt'altro. Si rallegrò che avvenisse comunque qualcosa. Considerò il particolare della carrozza un'idea riuscita, proprio come a teatro, quando si apprezza che un pezzo noto sia presentato in modo sorprendentemente nuovo. Molti trovarono persino che quell'entrata in scena fosse proprio adeguata. Un delinquente così straordinariamente ripugnante meritava un trattamento fuori dal comune. Non si poteva trascinarlo incatenato in piazza e ammazzarlo come un comune brigante. In questo non ci sarebbe stato niente di sensazionale, ma farlo uscire da un'elegante carrozza imbottita per metterlo sulla croce di Sant'Andrea era di una crudeltà incomparabilmente ingegnosa. La carrozza si arrestò tra il perpatibolo e la tribuna. I lacchè saltarono a terra, aprirono la portiera e fecero ribaltare la scaletta fino a terra. Scese il tenente di polizia, dopo di lui un ufficiale della guardia e infine Grenouille. Indossava una giacca blu, una camicia bianca, calze di seta bianca e scarpe nere con fibbia. Non era incatenato, nessuno lo teneva per il braccio. Scese dalla carrozza come un uomo libero. E poi accadde un miracolo. O qualcosa di simile a un miracolo, cioè qualcosa di talmente incomprensibile, inaudito e incredibile che in seguito tutti i testimoni l'avrebbero definito un miracolo se mai comunque fossero ancora riusciti a parlare il che non avvenne dal momento che poi tutti si vergognarono già soltanto per avere preso parte all'avvenimento. Accadde cioè che le diecimila persone presenti sul cœur e sui pendici circostanti da un momento all'altro si sentirono invadere dall'assoluta certezza che il piccolo uomo in giacca blu, appena sceso dalla carrozza, non poteva essere un assassino. Non che dubitassero della sua identità. Era lo stesso uomo che dalla piazza della chiesa avevano visto pochi giorni prima alla finestra della Prevoté e che allora avrebbero linciato con odio feroce se l'avessero avuto tra le mani. Lo stesso che due giorni prima era stato condannato legalmente in base a prove schiaccianti e alla propria confessione. Lo stesso che solo un minuto prima avevano desiderato ardentemente di vedere ucciso dal carnefice. Era lui senza alcun dubbio e tuttavia nello stesso tempo non era lui. Non poteva esserlo, non poteva essere un assassino. L'uomo che si trovava sul luogo dell'esecuzione era l'innocenza in persona. In quel momento lo sentirono tutti, dal vescovo al venditore di limonata, dalla marchesa alla piccola lavandaia, dal presidente della corte al ragazzo di strada. Anche Papon lo sentì e le sue mani, avvingiate alla mazza di ferro, tremarono. D'un tratto le sue braccia forti erano diventate deboli, le ginocchia molli, il cuore pieno d'ansia, come se fosse stato un bambino. Non avrebbe potuto sollevare la mazza, per nulla al mondo avrebbe trovato la forza di sollevarla contro quel piccolo uomo innocente. Ahimè, temeva il momento in cui si sarebbe stato condotto fino a lui. Tremava, era costretto ad appoggiarsi alla sua mazza omicida per non cadere in ginocchio dalla debolezza, il grande, il forte Papon. Non diversamente, avvenne ai diecimila uomini, donne, vecchie e bambini raccolti sul luogo. Si sentirono deboli come giovinette che subiscono il fascino del loro innamorato. Furono sopraffatti da un sentimento possente di affetto, di tenerezza, di folle innamoramento infantile. Sì, incredibile l'amore per quel piccolo assassino e non potevano, non volevano opporvi, sì. Era come un pianto al quale non si può resistere, come un pianto a lungo trattenuto che sale dallo stomaco e annulla come per miracolo qualsiasi resistenza, scioglie e dilava ogni cosa. Liquido puro erano ormai tutti, sciolti dentro nello spirito e nell'anima, un unico amorfo fluire. Soltanto il loro cuore si muoveva all'interno come un debole grumo e ognuno di essi, ognuno di esse, lo depose tra le mani del piccolo uomo in giacca blu. Nella buona e nella cattiva sorte lo amavano. Già da parecchi minuti Greneu stava accanto alla portiera della carrozza senza muoversi. Il lacchè accanto a lui era caduto in ginocchio e continuò ad abbassarsi sino ad assumere quell'atteggiamento di prosternazione totale che si usa in oriente davanti al sultano e davanti ad Allah. E persino in questo atteggiamento continuava a tremare e a vacillare e tentava di abbassarsi ancora più fino a stendersi contro la superficie della terra, fino a entrarvi, fino a sotterrarvisi. La sua devozione l'avrebbe fatto sprofondare fino all'altro capo del mondo. L'ufficiale delle guardie e il tenente di polizia, entrambi uomini imponenti, che ora avrebbero dovuto condurre il condannato sul patibolo e affidarla al boia, non riuscivano più a coordinare i loro gesti. Piangevano e si toglievano il cappello, se lo rimettevano, si buttavano a terra, si giottavano l'uno tra le braccia dell'altro, si staccavano, agitavano le braccia in aria come insensati, si torcevano le mani, sussultavano e facevano smorfie, come se fossero stati colti dal ballo di San Vito. I notabili, che si trovavano un poco più distanti, si abbandonavano alla loro emozione in modo non molto più discreto. Ognuno lasciava via libera all'impulso del proprio cuore. C'erano signore che alla vista di Grenoil si premevano i pugni contro il vente e sospiravano di piacere, e altre che colte da struggente desiderio per lo splendido giovane, poiché tale appariva esse, cadevano silenziosamente in deliquio. C'erano signori che ad un tratto schizzavano via dai loro sedili e poi si lasciavano ricadere giù, e saltavano su di nuovo, ansimando violentemente e serrando i pugni sull'elsa della spada, come se volessero sguainarla, e, mentre già la stavano sguainando, la ricacciavano nel fodero. Cosicché c'era soltanto un gran strepitare e stridere, e altri, che muti, volgevano gli occhi al cielo e torcevano le mani in preghiera, e Monsignore il Vescovo, che come se si sentisse male, si rovesciava in avanti con la parte superiore del corpo e batteva la testa sulle ginocchia, finché la sua mitra verde rotolò giù dalla testa. E non stava affatto male, bensì per la prima volta in vita sua si beava di un'estasi religiosa, poiché un miracolo era avvenuto dinanzi agli occhi di tutti. Il Signore Dio in persona aveva fermato il braccio del carnefice, mostrando colui che per il mondo era un assassino sotto forma di un angelo. Oh, che cose simili accadessero ancora nel XVIII secolo! Com'era grande il Signore, e com'era piccolo e vano lui stesso, che aveva pronunciato una scomunica senza credervi, soltanto per placare la popolazione. Oh, quale presunzione, quale pusillanimità! E ora il Signore operava un miracolo. Quale splendida umiliazione! Quale dolce mortificazione! Quale grazia per un vescovo essere castigato in tal modo da Dio! Nel frattempo, il popolo, al di là della barricata, si abbandonava all'ebbrezza sempre più folle e sfrenata che Grenoy aveva scatenato con la sua apparizione. Chi da principio alla sua vista aveva provato soltanto pietà e commozione, adesso era traboccante di nuda concupiscenza. Chi da prima aveva provato soltanto ammirazione e desiderio, ora si sentiva in preda all'estasi. Tutti pensavano che l'uomo in giacca blu fosse l'essere più bello, più attraente e perfetto che si potesse immaginare. Alle monache appariva come il Salvatore in persona, ai seguaci di Satana come il Signore Splendente delle Tenebre, agli uomini colti come l'essere sublime, alle fanciulle come un principe da fiava, agli uomini come il ritratto ideale di loro stessi. E tutti si sentirono riconosciuti e toccati da lui nel loro punto più sensibile, colpiti nel centro del loro eros. Era come se quell'uomo possedesse diecimila mani invisibili e le avesse posate sul sesso di ciascuna delle diecimila persone che lo circondavano, accarezzandolo proprio in quel modo che ognuno, uomo o donna, bramava ardentemente nelle più segrete fantasie. La conseguenza fu che la prevista esecuzione di uno dei delinquenti più esecrabili del suo tempo degenerò nel più gran bacanale che fosse stato dato di vedere dal II secolo a.C. in poi. Donne morigiorate si strapparono la blusa, si denudarono i seni tra urla isteriche, si gettarono a terra con le gonne sollevate, uomini incespicarono con sguardi folli in quel mare di carne lasciva stesa dinanzi a loro e stesero di furia dai pantaloni con dita frementi il loro membro, come il rigidito da un gelo invisibile. Si lasciarono cadere ansimanti nel punto in cui si trovavano e copulavano in posizioni, accoppiamenti impossibili, il vecchio con la vergine, il bracciante con la moglie dell'avvocato, l'apprendista con la monaca, il gesuita con la moglie del framassone, tutta la rinfusa, come capitava? L'aria era greve del sudore, dolciastro, del piacere e colma delle grida, dei grugniti e dei gemiti delle diecimila belve umane. Era infernale. Grenoie stava a guardare e sorrideva. A coloro che lo vedevano il suo sorriso sembrava il più innocente, il più affascinante e il più seducente del mondo, ma in verità sulle sue labbra non c'era un sorriso, bensì un sogghigno, orrendo, cinico, che rifletteva tutto il suo trionfo e tutto il suo disprezzo. Lui, Jean-Baptiste Grenoie, nato senza odore, nel luogo più puzzolente del mondo, che proveniva dai rifiuti, dagli escrementi e dalla putrefazione, cresciuto senza amore, che viveva senza una calda anima umana, unicamente per ostinazione con la forza del disgusto, piccolo, gobbo, zoppo, brutto, evitato da tutti. Un mostro, sia di dentro sia di fuori, era riuscito a farsi benvolere dal mondo. Ma che benvoluto, amato, adorato, idolatrato, aveva compiuto l'impresa di Prometeo. Con infinita raffinatezza, era riuscito a produrre la scintilla divina che altre persone ricevono fin dalla culla senza colpo ferire, e di cui lui solo era stato privato. Più ancora, se l'era creata da sé, lottando nell'interno del suo sé. Era ancora più grande di Prometeo, si era creato un'aura più splendida e potente di quella di qualsiasi altro uomo prima di lui, e non la doveva nessuno. Non a un padre, non a una madre, e men che mai a un Dio, benevolo, ma unicamente a sé stesso. In realtà era il Dio di sé stesso, ed era un Dio ben più grande di quel Dio puzzolente d'incenso che dimorava in chiesa. Di fronte a lui c'era un vescovo in ginocchio che guaiva di piacere. Ricchi e potenti, fieri signori e signore, si consumavano dall'ammirazione, mentre tutto intorno il popolo, tra cui c'erano padri, madri, fratelli e sorelle delle sue vittime, celebrava Orge in suo onore e in suo nome. Un suo cenno, e tutti avrebbero rinnegato il loro Dio e adorato lui, il grande Grenouille. Sì, era il grande Grenouille. Adesso era evidente, lo era, come un tempo nelle sue fantasie di innamoramento di sé, così ora nella realtà. In questo momento viveva il più grande trionfo della sua vita, e sentì che era orribile. Era orribile, perché non riusciva a goderne neppure per un secondo. Nel momento in cui era sceso dalla corrozza che sulla piazza è illuminata dal sole, con indosso il profumo che induce gli uomini ad amare chi lo porta, con il profumo cui aveva lavorato per due anni, il profumo che aveva sognato di possedere tutta la vita, nel momento in cui vide, percepì con l'olfatto come esso agiva in modo irresistibile e come, diffondendosi con la rapidità del vento, catturava le persone che gli stavano intorno, in quel momento, tutto il disgusto per l'umanità si ridestò in lui e aveva il nostro trionfo così profondamente che non solo non provò gioia alcuna, ma neppure il minimo senso di compiacimento. Ciò che aveva sempre agognato, e cioè che gli uomini lo amassero, nel momento del suo successo gli era intollerabile, perché lui stesso non li amava, li odiava. Ed un tratto seppe che non avrebbe mai trovato a soddisfazione dall'amore, bensì sempre soltanto dall'odio, dall'odiare e dall'essere odiato. Ma l'odio che provava per gli uomini non trovava eco in loro. Quanto più, in quell'istante, li odiava, tanto più essi lo idolatravano, perché di lui non percepivano altro se non la sua aura usurpata, la maschera del suo odore, il suo profumo rubato, che in realtà era divinamente buono. Ora avrebbe voluto estirparli tutti dalla terra, quegli uomini stupidi, puzzolenti, erotizzati, proprio come un tempo nelle contrade della sua anima nera aveva estirpato gli odori estranei. E si augurava che essi sapessero quanto li odiava e che per questo, per questo suo unico sentimento vero mai provato, ricambiassero il suo odio e lo estirpassero a loro volta come già si erano proposti di farlo all'inizio. Voleva liberarsi per una volta nella vita, per una volta nella vita voleva essere uguale agli altri e liberarsi di ciò che aveva dentro, come essi si liberavano del loro amore e della loro stupida adorazione, così lui del suo odio voleva essere conosciuto per una volta, una sola volta, nella sua vera esistenza e ricevere una risposta da un altro uomo sul suo unico sentimento vero l'odio ma non avvenne nulla non poteva avvenire nulla e quel giorno meno che mai poiché si era mascherato con il miglior profumo del mondo e sotto questa maschera non aveva un volto non aveva nulla se non la sua totale assenza di odore d'un tratto cominciò a star male poiché sentì che le nebbie salivano di nuovo attorno a lui come allora nella caverna in sogno nel sonno nella sua fantasia salirono ad un tratto le nebbie le nebbie spaventose del suo odore che non riusciva a sentire poiché ne era privo e come allora provò un'immensa paura e angoscia e credette di soffocare ma diversamente da allora questo non era un sogno né un sonno bensì la cruda realtà e diversamente da allora non si trovava solo in una caverna bensì su una piazza davanti a decimila persone e diversamente da allora non poteva aiutarlo un grido che l'avrebbe svegliato e liberato ne poteva fuggire tornando nel suo buon mondo caldo che l'avrebbe salvato poiché questo qui e ora era il mondo e questo qui e ora era il suo sogno divenuto realtà e lui stesso aveva voluto così le orribili nebbie soffocanti salivano di nuovo dalla palude della sua anima mentre attorno a lui il popolo gemmeva in estasi orgiastiche e orgasmiche un uomo si mise a correre verso di lui si era alzato di scatto dalla prima fila dei notabili con tale impeto che il cappello nero gli era caduto dalla testa e ora si precipitava verso il luogo dell'esecuzione con la giacca nera svolazzante come un corvo o come un angelo vendicatore era Richis mi ucciderà pensò Grenoy è l'unico uomo che non si lascia ingannare dalla mia maschera non può lasciarsi ingannare ho addosso il profumo di sua figlia chiaro e rivelatore come il sangue deve riconoscermi e uccidermi deve farlo e allargò le braccia per accogliere l'angelo che volava verso di lui già pensava di sentire contro il petto l'urto del pugnale o della spada come un colpo stupendamente eccitante e la lama che penetrava attraverso la sua corazza di profumo e la nebbia soffocante fino al centro del suo cuore freddo finalmente finalmente qualcosa nel suo cuore qualcosa che non fosse lui stesso già si sentiva redento ma poi ad un tratto Richis gli si buttò al petto non un angelo vendicatore ma un Richis sconvolto che si indiozzava da far pietà e lo abbracciò si avvinghiò a lui con tutte le sue forze come se non avesse trovato altro appiglio in un mare di beatitudine non una pugnalata liberatrice non una stoccata al cuore neppure una maledizione o anche soltanto un grido d'odio c'era invece la guancia umida di lacrime di Richis contro la sua e una bocca tremante che gli sussurrava piangendo perdonami figlio mio mio figliolo caro perdonami perdonami in quel momento sentì dall'interno che tutto dileguava davanti ai suoi occhi e il mondo circostante si oscurò totalmente le nebbie dentro di lui si trasformarono in un flusso impetuoso simile a latte bollente schiumeggiante lo inondarono premettero con forza spaventosa contro la pelle del suo corpo senza trovare una via d'uscita tentò di fuggire di fuggire per l'amor di dio ma dove voleva scoppiare esplodere voleva per non essere soffocato dal suo sé infine cade a terra e perse i sensi